arrivo 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 ci siamo? arrivo l'agricola gioia Fisamonte 5 no 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 manca qualcosa hai proprio fatto 50 anni non ti ho mai visto così danzato fate un applauso Paolo Berga cosa manca? ne manca un'altra secondo me Alex Villani dai Alex vieni su vieni su fatemi sentire l'applauso della baita ragazzi la facciamo in tre quali sei? bianca, nera, la nera piccolina no 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 oi oi ti manca Alex quella da sua ci mancherebbe altro vorrei sapere questi fisiamonecisti che non si portano al loro strumento ci siamo? ci siamo portiamo? prego l'agricola vai vai no 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 manca qualcosa manca qualcosa manca qualcosa noi non torneremo mai più da Malta per cui grazie a te ne manca solo uno ne manca solo uno Tomi vai Tomi vai Tomi vai Tomi ha quattro fisarmonite per tutti voi l'agricola no 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 ah no io ho portato il simbolo grazie a te grazie a te ci siamo adesso partiamo mai partiamo mai grazie a te 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 товari ma tu tu tranquilo è vi vesting fare le Grazie a tutti. Grazie a tutti. Orquestra.